il signor smilzetto era proprio scandaloso quel signor smilzetto che spinse la sua nonna a calcioni in un carretto suonando un campanaccio urlava a squarciagola si vendono nonnette anche una nonna sola i vicini dicevano vedendolo passare questa povera vecchietta non si può certo comprare deve essere proprio un uomo meschino per vendere sua nonna dentro quel carrettino una nonna disse un altro se lo vuoi sapere non serve quasi a niente come puoi ben vedere hai ragione disse un terzo non ci si può sbagliare anche per la nonna non sarebbe un buon affare così il signor smilzetto si grattò la testa poi disse alla sua nonna va pure torna a letto suonò il campanaccio per tutto il paese e riuscì a vendere il carretto per un soldo più le spese il carretto per un soldo più le spese